Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Municipale durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri a Trani per sedare un duro faccia a faccia tra il sindaco Gigi Riserbato e il consigliere d'opposizione Francesco Laurora a scatenare la bagarre il documento della minoranza letto dal capogruppo dell'Udc e Ncd Giuseppe Tortosa che ha annunciato le dimissioni collettive dei consiglieri per far cadere l'amministrazione una nota che ha provocato la reazione fuori microfono del primo cittadino che non è piaciuta al consigliere De Verdi, Laurora, che gli si è avvicinato con aria minacciosa cosa questa che ha fatto intervenire i vigili presenti in aula una volta rasserenati gli animi Tortosa ha potuto proseguire nella lettura del documento con cui l'opposizione ha anche annunciato di voler costituire una coalizione unica in vista delle prossime elezioni amministrative Ncd e Udc a Trani correranno dunque con il centro-sinistra a prescindere dalla loro alleanza con il centro-destra per le provinciali che si terranno domenica prossima nel contempo la minoranza ha anche sfiduciato il sindaco Gigi Riservato invitando gli altri componenti del Consiglio a contribuire al raggiungimento delle 17 firme necessarie per le dimissioni collettive Grazie a tutti